Assunzioni mirate tenendo conto del reale fa bisogno di ospedali e forze dell'ordine. Almeno 10.000 posti dovranno essere assegnati visto e considerato che nella sanità e nella sicurezza vi sono vuoti di organico rispettivamente di 35.000-40.000 persone. Dall'anno prossimo, stando a quanto contiene la manovra di stabilità che domani arriva al Consiglio dei Ministri, scatta dunque l'inversione di rotta dalla austerity alla crescita, almeno nelle intenzioni del Governo. Un Governo che intende dare un sostegno concreto alla crescita e che vuole concentrarsi su misure per favorire gli investimenti privati e pubblici, assicurando per questi ultimi il tempestivo utilizzo delle risorse. Fra i numerosi interventi anche alcuni in favore di famiglia e natalità, poca roba ma meglio di niente. Alcune ipotesi allo studio parlano di un buono nido di 1.000 euro l'anno per bambini da 0 a 3 anni e di un contributo di 800 euro per le future mamme destinato alle prime spese e alla diagnostica, oltre al bonus bebè che già prevede 80 euro al mese per chi ha un figlio sotto i 3 anni, ma questo riguarda solo chi ha un basso reddito. In materia fiscale, fra le intenzioni del Governo, c'è anche l'abolizione di Equitalia. Prendere il posto sarà un non meglio definito nuovo modello di agenzia.